Gentili telespettatori, buona giornata. Sapete che Enrico Letta, ieri con la sua ventesima priorità, ha chiesto tramite un'intervista di aumentare le tasse sotto forma di una patrimoniale, una tassa sulla eredità, oltre ai 5 milioni di euro, una tassa che porterebbe 2,8 miliardi che lui vorrebbe distribuire ai diciottenni, 10 mila euro ad ogni diciottenne, per evitare che vadano all'estero. Insomma, l'abbiamo già visto, no? Poi ho visto un commento di uno di voi che diceva, ma no, ma non hai capito, diciottenni è un modo di dire, è che da 18 anni in poi dai 10 mila euro ogni anno. E che cosa sarebbe questo? Una sorta di reddito di cittadinanza per chi compie 18 anni in avanti? Un altro reddito di cittadinanza? Diamo a chi compie 18 anni in poi 10 mila euro tassando i ricchi? Insomma, mi sembra un qualcosa un po' da... Così, il Premier Draghi, dopo la proposta lanciata da Letta nell'intervista a Sette, dice approfondiremo, perché il segretario del PD dice sui patrimoni non mollo. Insomma, c'è voluta una telefonata cordiale abbastanza lunga per ristabilire tra Draghi ed Enrico Letta quella consuetudine di rapporti che c'era prima della gelata sulla tassa di successione. Sentendo il Nazareno, cioè la sede del PD, questa tassa sarebbe più solida che mai. Cioè, nessun problema, dice tra me e Draghi, ha rassicurato i vertici del PD, l'ex Premier, che la prossima settimana in agenda un incontro con il capo del governo e il cui sostegno all'esecutivo di Unità Nazionale non è certo in discussione. Eppure la tempesta che si è alzata dopo la proposta del segretario dalle pagine di Sette, ancora imperversa, segno che questa uscita di Letta ha provocato un certo scalpore nel governo, nel centrodestra, ma anche nello stesso Partito Democratico, perché proprio Marcucci, una figura di spicco del Partito Democratico, dice io la penso esattamente come Draghi. Siamo in recessione, stiamo dando soldi agli italiani, non stiamo andando a cercare di farci dare soldi dagli italiani. Ma insomma, il chiarimento, dice Letta con Draghi, è stato necessario per liberare il campo da malintesi e interpretazioni strumentali. Il leader PD è pronto a fare la riforma del fisco, ma tiene a far sapere agli alleati avversari che l'idea di un'imposta di successione più alta per i patrimoni sopra i 5 milioni per offrire una dota ai diciottenni è una proposta per questa legislatura. Perché dal PD diceva ma no, Letta sta parlando della prossima, della roba prossimi governi, e invece dal PD dicono no, Letta sta parlando di questo governo. Naturalmente è una cosa da agitare davanti agli occhi del centrodestra. Beh, dice, giusto occuparsi dei giovani ma senza punire, spremere o tassare genitori e nonni. Ecco, insomma, diciamo che l'imposta di successione per dare questi soldi ai diciottenni. Ecco, il punto è questo. Siamo arrivati al dunque, o arriveremo al dunque prima o poi, perché Giuseppi ha fatto oltre 150 miliardi di debito per fare i vari bonus, bicicletta, televisori, vacanze, monopattini, frigoriferi, televisori, eccetera eccetera. Quindi Giuseppi nel suo governo si è speso 150 miliardi chiedendo un ulteriore prestito e un ulteriore indebitamento all'Italia. Quei soldi andranno restituiti, eh? Attenzione, non sono, quei soldi non sono regalati, eh? È un ulteriore debito che fa l'Italia e che dovrà ripagare con gli interessi. E questo recovery plan, una parte sono soldi che non vanno restituiti, una parte sono soldi che vanno restituiti con gli interessi, ma seppur bassi vanno restituiti. Quindi l'Italia spenderà questi soldi ma andranno restituiti, non è che sono tutti gratis. Naturalmente con un PIL in discesa, quindi vuol dire meno tasse che entrano per il governo e con un debito in crescita fortissima, ovviamente i soldi qualunque governo dove dovrà andare a prenderli. Visto che non ha soldi in cassa, dovrà chiedergli agli italiani tramite delle tasse. Su questo non si scappa, eh? Se tu devi restituire i soldi che hai preso in prestito e non hai soldi ma gli unici che te li danno sono gli italiani, dovrai fare delle tasse. Questa è la realtà. Sono tutti preoccupati, da Giulio Tremonti, l'economista Giulio Tremonti, a Brunetta di Forza Italia, lo stesso Draghi, tanti economisti. Ad esempio Cacciari non è un economista ma anche lui è seriamente preoccupato per il debito. Quindi non se ne parla ma quei soldi del debito vanno restituiti. E come? Eh, ve l'ho detto, con le tasse, non ci sono altri modi. A meno che il PIL, la produzione nazionale, salga così tanto da far diventare il debito in percentuale sul PIL più basso. Ecco, quello è l'unico modo, se no ci sono le tasse. Draghi non pare aver chiuso del tutto la porta su un aumento delle tasse. Dice, ne parleremo, assicura Letta. Si approfondirà, confermano a Palazzo Chigi, dove non si aspettavano una simile bufera per una frase che il Premier due giorni fa aveva pronunciato senza malizia, un po' spiazzato da una domanda in conferenza stampa. Dice, non ne abbiamo mai parlato ma non è il momento di prendere soldi dai cittadini, è il momento di darli. Proprio quel che pensa Letta, il quale domani sarà in tv, per spiegare nel dettaglio la proposta di Dote 18 e per ribattere alle critiche di tutti quelli che non vogliono che l'1% del paese aiuti i diciottenni. L'1% del paese può aiutare i diciottenni ma deve essere una cosa volontaria. Non puoi andare a dire all'1% del paese tu hai un patrimonio che era già stato tassato, no? Adesso io te lo tasso di nuovo, mi devi dare dei soldi perché io devo dare 10.000 euro a ogni diciottenne. Capite che l'imprenditore, la persona che ha messo da parte un certo capitale sul quale ha già pagato i soldi, deve dare obbligatoriamente i soldi al governo perché il governo li deve dare ai diciottenni per comprarsi la macchina e il cellulare. Insomma, mi sembra un po'... il tema divide il partito, eppure l'idea messa a punto con il vice segretario Beppe Provenzano non è nuova per i DEM, che possono leggerla nel libro di Letta, L'anima e il cacciavite, edito da Solferino. Per Roberto Gualtieri è cosa sacrosanta, anche perché in tema di tassazione sull'eredità e sulle successioni l'Italia ha il fanalino di coda insieme a Ungheria, Lituania. Stanno dicendo che gli altri paesi tassano di più, quindi noi dobbiamo accodarci, ecco, dobbiamo vedere le brutte abitudini degli altri e noi le dobbiamo imitare, ecco. Mentre le belle no, solo le brutte. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Se volete siamo anche in Facebook, in Instagram e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Grazie a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Poi siamo in Facebook, come vi dicevo, Tele Italia Seconda Rete, nella community trovati i sondaggi e c'è anche l'abbonamento al canale. Un euro per vedere i video, prima, per vedere dei video che gli altri senza l'abbonamento non possono vedere. Grazie a tutti, arrivederci.